Buongiorno, mi chiamo Laura Ferro, mi sono laureata presso l'Università degli Studi dell'Insubria nel 2009 in il corso di laurea in educazione professionale. Ho proseguito poi gli studi con il Master Piloto Educare in ambito ospedaliero, ho lavorato in diverse aree con diverse utenze per poi fermarmi nell'area geriatrica. Oggi sono educatrice professionale presso un RSA del territorio ivarese e tutor per il corso di studi in educazione professionale. seguendo gli studenti nel loro percorso di tirocinio nell'area geriatrica in supporto all'area ospedaliera. Questo percorso di studi mi ha permesso di conoscere un lavoro davvero interessante. Ogni giorno è novità, incontrare persone, conoscerle, accompagnarle è davvero arricchente. Buona continuazione!